La più lunga diretta video mai fatta prima sulla pizza verace napoletana che ha connesso ben 13 paesi in tutto il mondo e 17 masterclass. Molino Denti, partner di Top Italian Chef, in questa lunga diretta ha presentato al mondo le sue farine per pizza anima verace, molto apprezzate già in diversi paesi quali Francia, Polonia, Stati Uniti e Canada. Eccoci in Francia, a Marsiglia, presso l'Ussat La Mangere. Fredo e Faiza è uno chef che però ha voluto fortemente portare la pizza napoletana a Marsiglia. Un evento che ha avuto un successo mondiale, seguitissimo da professionisti e da tutti i veri amanti della pizza realizzata con prodotti d'eccellenza italiani. Le farine Molino Denti hanno avuto ruolo di grande rilievo in questo lunghissimo evento che ha interessato ben 13 paesi nel mondo.